Nei giorni scorsi abbiamo denunciato più volte lo stato di degrado in cui si trovano due grandi aree incolte a poca distanza dal centro di Palo del Colle in provincia di Bari. Gli abitanti della zona, residenti soprattutto in via Don Giuseppe Minerva, lamentavano la presenza di topi e altri animali a causa dell'erbaccia e dei rifiuti accumulati. Questa mattina, 72 ore dopo l'ultimo servizio trasmesso da Antena Sud e l'ultimo appello rivolto al sindaco Luigi Rosario Viola è iniziata la pulizia almeno di una delle due zone. Come si vede da queste immagini amatoriali che ci ha inviato un residente, un operaio a bordo di un trattore ha provveduto a falciare in parte l'erba secca. Il lavoro in realtà non è ancora concluso. La speranza dei cittadini è che nei prossimi giorni le due aree vengano ripulite del tutto anche per evitare il rischio di incendi come è accaduto in passato, aspettando magari che possano essere riqualificate una volta per tutte. Grazie.